Tragico scontro frontale. Morti quattro giovani, uno e in prognosi riservata. L'incidente nella notte sulla Fondo Valli Alento. Le vittime hanno tra i 21 e i 37 anni ferito un 31enne. Un bilancio spaventoso del sinistro avvenuto stanotte sulla strada statale 649 Fondo Valli Alento all'altezza di Bucchianico. In base alle prime informazioni, una Golf con a bordo due persone si è scontrata frontalmente con una Jeep Renegade con all'interno tre ragazzi. Una vittima a 21 anni, due 23 e una 37. Sono tutte della provincia di Chieti. Si tratterebbe di due fratelli di 21 e 23 anni di caso, di Massimiliano e Alessandro Fiore, mentre il 23enne Mattia Lorenzo Menna e di Altino. Il 37enne è deceduto Domenico Di Fazio e Di Rapino, dove era anche presidente della squadra locale di calcio. Il ferito ha 31 anni ed è al momento ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Chieti. Coinvolta nello scontro anche una terza auto, una Fiat Tipo. Il conducente è rimasto fortunatamente illeso. Le indagini per ricostruire la dinamica dello schianto sono affidate alla polizia stradale di Chieti. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del 118 e i carabinieri. In base alle prime ricostruzioni della polizia stradale, la Golf con a bordo i due fratelli e il 23enne di Altino stava viaggiando lungo la statale 649 in direzione Francavilla al mare Guardia Grele, quando all'altezza del chilometro 13 nel comune di Bucchianico avrebbe effettuato una manovra di sorpasso alla Tipo. ma nel frattempo in direzione opposta stava passando la Jeep Renegade. L'urto è stato inevitabile e di fortissima entità e la tragedia si è inesorabilmente consumata.